Lo shampoo Luciano Conti è molto delicato, per questo è particolarmente indicato per lavaggi frequenti. Ha un gradevole profumo di pesca che trasforma la detersione quotidiana in un momento di piacevole relax. Si consiglia di diluire una noce di prodotto nel palmo della mano, quindi applicarlo sui capelli precedentemente inumiditi. Ha un'azione vitaminizzante e idratante. Il conditioner Luciano Conti è un prodotto rivoluzionario. Si tratta infatti di un balsamo che non necessita di esciacco. Crea una pellicola protettiva che rende i capelli brillanti e setosi. Ha un'altissima resa, ne basta una quantità minima per districare e nutrire perfettamente il capello. Si consiglia di applicarlo sui capelli umidi dopo il lavaggio, distribuendo il prodotto uniformemente con l'aiuto delle mani. Il lunatico di Luciano Conti si utilizza sui capelli umidi dopo averli lavati e tamponati con un asciugamano. Si applica una piccola quantità di prodotto, distribuendolo uniformemente con le mani. Per creare un effetto liscio, la piega va effettuata con una spazzola oppure con una piastra. L'unatico migliora l'elasticità del capello, proteggendolo dal calore di phon e piastra. Goccia d'oro Goccia d'oro è un trattamento a base di aloe vera che non appesantisce e non unge assolutamente il capello. Chiude, ripara le doppie punte e protegge dall'aggressione dei fattori atmosferici. Può essere applicato sia sui capelli bagnati prima dell'asciugatura che sui capelli asciutti per aumentare l'effetto brillantezza. L'uso costante consente di allungare il tempo tra un lavaggio e il successivo. Utilizzato giorno dopo giorno, crea un film invisibile sul capello che lo fortifica e lo rende luminoso.